Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi farò vedere tutti i miei personaggi di Star Wars Che sono solo due ma ce n'è uno Che non è di Star Wars Ma non è superiore Scrivetemelo nei commenti Così posso sapere Allora abbiamo questo qua Che diciamo che è il capo L'antagonista Non so se Scusatevi questi rumori Non so se è un cattivo Non ve li prego Perché non so Star Wars Eccolo Non riesco neanche a fare Così forse Sì così lo vedete Me lo faccio Me lo vedete qui Così vedete solo la faccia Poi abbiamo questo qui E' piccolo Ma guardate qua quanto è fatto bene Guardate Poi guardate qui Quasi illumina Guardate qua che bello Eccolo qui Qui abbiamo questo che non so se è di Star Wars Quindi ditemelo Eccolo qui Dove stai guardando Là Questo qua si muove pure un bel po' Guardate qua Ma se questo mi piace tanto Guardate qua così Eccolo qui Ebbene ragazzi Spero che questi giocattoli vi siano piaciuti Iscrivetevi al mio canale Attivate la campanella E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao